Sono due cose semplici, per aver iniziato a pensare a programmare un futuro che vada al di là del limite temporale amministrativo e che faccia tornare soprattutto il nostro comune importante come merita, come lo è stato per decenni, dando gli anche una possibilità turistica. Il secondo, a cui tengo di più, è per aver coinvolti i giovani e aver affidato loro non solo la responsabilità, ma anche l'entusiasmo, la voglia e la consapevolezza di programmare il loro futuro. Il nostro programma è finalizzato a che lo compiano loro.